Ufficialmente è stato causato da un corto al vecchio inchianto elettrico. Sai dove è Damon? No, lui è sparito subito. Tipico. Sono così felice che tu stia bene. Ho provato in tutte le maniere a odiarlo. Ma immagino sia inutile. Perché gli vuoi bene. E anch'io. Ma è te che amo, Stefan. So che questa cosa ti preoccupa. No, è solo... È solo che conosco bene mio fratello. Ma io amo te, Stefan. Lui riesce sempre a creare problemi. Sì, ma io amo te, Stefan. Ti amo. Quindi non devi preoccuparti. Ok. Ok. Sì. Ascolta, ho sentito Jenna. Jeremy è rientrato. Io farò un salto a scuola a prendere il mio vestito e il resto della mia roba. Poi entrò da lui. Poi entrò da lui.